buongiorno buongiorno coccodrilli stamattina porto una rosellina a questa signorina qua che è scomparsa esattamente fa un po' di cose ma ho sentito proprio il richiamo della ziggia davanti è bella e niente adesso sistemiamo questa bella rosellina volevo condividere questo momento con voi perché sapete che è un giorno speciale volevo fare un po' di cose stamattina sembrava mi ero svegliato abbastanza carico proprio poi è come se c'è avuto un richiamo non so non so come spiegatelo e niente adesso si sistemiamo il fiore sta arrivando mia mamma grazie ho colto queste margheritine grazie adesso andiamo a fare un po' di giretti sì me lo fa un po' di spesa che bello oggi proprio ve l'aspettavi? no per niente l'ho colte bene? però basta il pensiero ricordatelo pensiero pensiero mi avete chiesto dove ho preso gli occhiali sono qui da Sara guardate che belli questi sono da vista ragazzi ma con le lenti transition e anche questi qua bianco diventano verdi con il sole quindi se siete qua nella zona la numero uno è Sara guardate che bello saluta oh nooo ma buongiorno ma che perché non c'è? stai lasciando ma buongiorno stai paricchiando per quattro ma quando sei cattivato questa è un'offesa grossa perché? ti ritieni sotto i baffi vedi? ma buongiorno ma i baffi non ce l'ho buongiorno ho l'apparecchiaio buongiorno ho l'apparecchiaio buongiorno buongiorno sto cazzo oh ma perché? perché sto cazzo partiti eccoci guardate scemo unito sconto guarda come va guarda come va guarda come va guarda come va o no guarda guarda no 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 sta buono quanto è bellina guarda fammete o no nonno ma no che strada ma sta l'esco di imparare così ma perché? no no sta buono sta buono oh anni anni dei sacrifici per comprami sta lamborghini no 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 proprio non mi manca più niente ma che le cazzate fai ti dì tutte le cazzate mi fai che mi fai e dopo che fa? sempre in giro con l'urse e dopo che fa? e dopo che fa? e dopo che fa? e dopo che fa? ah levate levate con sti succe ma fa il pennellino bello lei mi ha grattato un dito ah lo fa sentire è scemo lo fa sentire guarda come rite anche da lui non mi fai mai non so che al tatto del dito ci vuole che le mani a stringere ma sentire al tatto 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 ma mi fa male sapete quanto cosa ha fatto? questa è legge? questa è legge? questa è legge? ma è che c'è? questa è legge? questa è legge? un pardo con lui come? si come questo ma che sottopalla che hai fatto? ma che sia il sottopallone tutte le piste da sci incredibile con i suoi 50 grammi di pasta eccolo qua riapre skillet seggio via ovo via è tutto riaperto il tiseganazzei selva di valgardera incredibile guarda quanto sta nevita tu? oh no? quanta nevita? io magno se tu ne fai e io cosa fa? cosa fa? e dopo? e dopo? e dopo? e dopo da ciò fai ancora fermate Federina e lasciami via un minuto fammi toccare il culetto mettiamo toccare luce no no fammi toccare il culetto metta la forza nooo pochi sali possano veramente c'è solare le ombre salano oh ma sti musicali ma perchè? oh cazzo no ma sti musicali ma sti musicali che c'hanno? ma è meglio ma è possibile che io davvero te chiamare? ma perchè? che c'hanno? che c'hanno? ma beh c'hò giò la crezza c'hanno il merletto d'altra testa ma è bene ma è meglio mannaggia no ma sono belle guardamoli insieme ma te ciaschi di cogliere su ma sto vedendo il giornale radio dell'Umbria sto a vedere sti imbecili ma è bello mannaggia Ma è possibile? Ma è bello Ma è bello Sì, le Simpsons Ma è bello Ma non è bello? Io veramente Erano tanto belli da guardare insieme Guarda come ride, guarda Dov'è? Per vedere le storie Di un po' di giorni fa Fate swipe up Giro con la punto drillo Quindi mettetevi comodi Fate le vostre cose Mettete là Vi divertite con noi Swipe Porto la cucciola Fare il tagliato Eccola, c'è lei Incredibile Mi accompagnerà in questa giornata Sempre il sedile dentro il cofano Mi raccomando Guardate il sedile dov'è È al massimo proprio Guarda Non ce la fa nemmeno Ma com'è possibile? Cioè sta tutta davanti Adesso spedizione tagliatelle Vai Vai Mi raccomando eh Con cura Eccolo Grande Chiudiamo E via Ciao tagliatelle Influencer che deve arrivare a 2.000 commenti Sei tu? Tu devi arrivare a 2.000 commenti? No Eccolo l'influencer che deve arrivare a 2.000 commenti Voglio 2.000 coccodrilli sotto Sì 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 Deve tagliare i capelli a zero Vuoi 2.000 commenti Sotto l'ultimo post Se ci arrivi però Mi fai inculare Qualsiasi cosa a piacere Dai non basta che fa la rapa No no La rapa Tagli i capelli a zero E mi fai rubare a tutto 2.000 commenti Commentate Adesso anche il murello mi fa fa Eh? Come sto? Perfetto Non ci ho voglia di provare le cose Guarda Sei slanciato C'è proprio il fisico Una volta ero alto Rida Eh certo Certo Tocca la regalata Beh questo me regali Quanto per lì Ah che bello Fatte vedere lo specchio Mi fa più alto Non è vero Mamma mia Che scicca Oh no Eh vaffanculo Ma che stai fai Ma come Mi viene l'improvviso dietro Ma che stai fai Che stai fai Sento il russanio E dopo? E dopo da chi ha fatto No Oh no Oh no Tutti insieme Ma vabbè Non te la faccio anche al sotto Testo di cari Non te la faccio anche al sotto Vai donna Maria Vai vai Ave 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 Maria Ave 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 Maria San 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 Sempre Siamo usciti Eh nonna Maria Grazie Grazie Gian Grazie Che nemmeno il funerale Che abbiamo potuto fare Infatti da Tra che volevo arrivare Eh Le dico Al più Al più Al più No 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 Siamo usciti È stata una bella messa Bella Molto bella Soprattutto perché Non abbiamo potuto fare il funerale Quindi Un po' mi sono emozionato Quando ha detto La zi Gian Eh Tu sai quanto è contenta Ti piace? Mi ero lavorato Ti piace? Eh Eh Bella? È bella Chissà dove ci andrò Con sta macchina Ragazzi Prevedo una cosa super Chi è lui? Chi è? Chi è lui? Chi è? Oh stasera siamo l'Inter Eh Sei carico? Sì Sei carico o no? Oh Sei carico? Fermate Fedeli Fermate Fedeli Ma che fa Fermate Lasciolo a fare Lasciolo a fare E' bello scherzo Ti piace? Dì la verità E' bello scherzo Questo Oggettivamente Sì ma io ti do un caccio Un di coglione Quando ti puoi scherzi Tu hai da sta fermo Damo anche il voto Dallo scherzo Perché comunque E' bello Fai scherzi Tutto qua Però uno devi dare il voto Dammi un voto Questo E tu Che voto Potevo piare? Questo Che cacca Dato efficiente No Dime che voto Lì Dato efficiente Dime sto scherzino Che voto c'è Cardinal Rischio Questa è la carta Eh ma dimmi che voto Questa è la carta Dimmi che voto Oh Mosca il coccodrillo Dimmi il voto No Chiapelo Chiapelo Guarda come scaccia Guarda come rire Sotto sotto No 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 Ripa niente Invece Si diverte Sono incazzato Sempre incazzato L'amico mio Il papa Se sta per dimettere Lo ha detto Il prete L'ha detto Va via Che non è vero Che lui è bravo Ma aiutimi Va via Allora Ma aiutimi Ma aiutimi Ma Ma Io ho detto che L'ho finito del prete Che il papa Si rimetteva Beh va a fanculo Tu e lui No Ma è andato a fanculo Il papa No Che delinquente Che c'è Una carogna C'è una carogna È vero Papa Io mi dissocio Lei si dissocia È vero Perché lui Ama Questa la leviamo La storia Perché veramente Ma ti rendi conto Che ha detto Se le vede il papa Ma più che altro T'ho detto quella storia Che Instagram Ce l'hanno anche sopra È cristogramma Quindi Occhio Perché guardano tutto Però si divertono anche È vero E poi di qui c'è anche una spia Che potrebbe dirlo Direttamente al papa Padre spio Guardate dove si è nascosto Eccolo Guarda padre spio Dove sta Eccolo Lui guarda tutto Padre spio Come guarda tutto Padre spio Che scherzo Che tutto Eh Lui guarda tutto Tutto pronto Al carletto stadium Eccolo Chi gioca Stasera Lukaku De fuligno De dove è Lukaku De fuligno De dove è De fuligno De dove è Ma F*** Attenzione Un accenno di tremolio Di Vediamo un po' Come andrà la partita Oggi siamo carichi Fa la faccia carica Carico Carico E' l'ora Con te scarico Fa la faccia carica Più carico Più carico Più carico Mi ha paguito Oh Ecco Tutto pronto Noi siamo Belli Caldi Via Si va Si va E' il secondo tempo Chi c'è ? Chi c'è ? Chi c'è ? Che è successo ? Eh ? Che è successo ? Chi c'è ? Sembra di sì Niente Un ticino Andiamo a più dieci Guardamola In una maniera Positiva Dai Si si Vuoi Che tocca Bravi ragazzi Forza Inter Forza Oggi Oggi Gli è piaciuta Lui vuole Vincere sempre Raga Sempre Tutte le partite C'è stata A meretta Non mi piace Come giocano Oh Sotto palla Come Come un coglione Posso dire Che non mi piace Come giocano E perché no Perché loro Cominciano a giocare Pi Pi Ti L'artirano addietro Ti 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 L'artirano addietro Ma se tu L'artirano addietro Quando ci m'è Pagogli Quando Ma a volte Nante le fasce E le fasce Onda curre Oh Noi Giù da piede Rimetti al centro No che Ti Ti Pullo armando addietro Se tu L'armando addietro E il pallone davanti Ci vai E già E allora Così si gioca Anche questa Giornata volge al termine Come vi avevo accennato Qualche giorno fa Starò via Quasi una settimana O forse una settimana Perché dovrò fare Delle cose Tra l'altro Alcune molto belle Felice E anzi In dei giorni Forse utilizzerò Pochissimo il telefono Quindi Siete voi I padroni Del mio profilo Domani ci sono Da venerdì Un po' meno Quindi voi Taggatemi E ripostate Tutte Tutti i video Tutte le storie Tutto quello che Vi piace Tutto quello che Avete visto in passato Oppure avete visto da poco Taggatemi che io li rimetto Così da Ravvivare Vi terrò Aggiornati Oggi è stata una giornata Super Ricordo La ziziana Non è che è vivo Ancora di più Lei è Con me Dentro di me Lo sarà per sempre E Oggi Mi è piaciuto Condividere qualche video Che stavamo Insieme Che bello ragazzi Un po' mi manca Però Un po' tanto E niente Dai ci vediamo domani Non ve la fa lunga Buonanotte Coccodrilli A domani mattina A domani mattina